Allora, noi siamo la Dynamo Pontex Ghost Rider, siamo arrivate settime e siamo lo stesso contente, perché siamo nate quest'anno e quindi abbiamo fatto il massimo che potevamo, siamo contentissime. Cos'è mancato per arrivare un po' più in alto? Un po' più di allenamento e forse all'inizio eravamo poco preparate. Punti forti invece della tua squadra? Penso che sia il gruppo, sicuramente è il gruppo, l'unione del gruppo. Come vi siete trovate con Calcio Liguria? Vi siete divertite? Sì, sì, molto. È già il secondo anno che lo facciamo e molto.